Qual è il timing degli effetti nel TCG di One Piece? Quali abilità si attiveranno prima di altre? E quanto importante sarà lo stile di scrittura riportato sul testo di una carta? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Per chi sta iniziando a muovere ora i primi passi tra le azzurre acque del grande blu, o per meglio dire spiegare le vele, i dubbi sono dietro l'angolo ed uno su tutti la priorità di innesco dei vari effetti presenti sulle carte di gioco. Si attiva prima l'effetto on play? No, prima il perpetuo è già sul campo di battaglia. Sei sicuro che per spaccare un character non devi scartare vita? Aumenta la sua potenza così anche se non risolve l'abilità per intero? Come sarebbe a dire che puoi attivare l'abilità del tuo personaggio per evitare un'ecatombe? Queste sono solo alcune domande che ho udito durante le diverse sessioni di gioco alle quali ero presente e quest'oggi andremo a rispondere ad ogni quesito che è stato appena posto prendendo in considerazione quattro esempi più o meno attuali che mi auguro risponderanno una volta per tutte ad ogni dubbio. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme come si comporterà il timing di alcuni effetti nel TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con il classico Lucci contro Sugar. Ebbene in questo caso il membro della CP0 andrà a distruggere la bambina dei pirati di Flamingo attraverso il suo effetto on play, impedendo a quest'ultima di innescare il proprio, che vedrebbe sia essa che il governativo entrambi presenti in campo in stato di esaurito. Il procedimento in questo caso sarà il seguente. L'abilità on play di Lucci si innescherà prima dell'opponent's turn, once per turn, presente in Sugar. Tenete a mente un concetto di base molto importante in questo gioco. Ora, so che i diversi giudici di gara mi linceranno per quello che sto per dire, ma è per semplificare le cose. L'abilità on play ha sempre la precedenza su ogni altra parola chiave. Ci saranno comunque dei casi straordinari dove l'abilità in questione verrà limitata. Ne parleremo fra poco. Il secondo caso vede la comparsa del testo in grassetto su determinate carte. Per questo esempio prenderemo Sabbo costo 5 e Luffy sempre costo 5, entrambi gialli presenti nello starter dei tre fratelli. Facendoci caso, sarà presente una parte dell'effetto di pugno di fuoco evidenziata maggiormente rispetto al resto. Ebbene, ciò starà a significare che, se non risolverete prima quella parte di abilità, pagandone il più delle volte un costo di attivazione, non vi sarà possibile innescare la seconda. Per Luffy invece il discorso cambia. Esso acquisirà comunque i suoi 2000 punti di forza, anche se non risolverà il suo effetto per intero. Quindi ogni volta che vedrete un grassetto nel box di testo di una qualsiasi carta, dovrete tenere a mente questo concetto. L'abilità sarà divisa in due, soddisfacendo la prima parte, innescherete in automatico la seconda. Terzo caso vede coinvolto rosinante blocker di OP05. Immaginate di avere la board piena e l'avversario gioca un Kaido costo 10 con l'intento di spaccare qualsiasi presenza sotto il vostro controllo. Ebbene, se tutti i vostri alleati saranno esauriti, avrete la possibilità di distruggere unicamente lo stesso rosinante, che simulerà per la causa, limitando al massimo i danni che riceverete. Infatti, lasciando il gioco, l'effetto di Kaido verrà praticamente annichilito, anche se on play. Mi spiego meglio, il timing in questo caso seguirà tale logica. Si attiva l'effetto on play del Kaido, lo stesso effetto bersaglia tutti i character presenti sul terreno. L'iniziativa passa all'avversario che, se possibile, attiverà i suoi effetti presenti sotto il suo controllo. Egli deciderà quindi di innescare l'effetto opponent's turn del rosinante. A questo punto, non essendoci più abilità da attivare, rosinante verrà fatto fuori salvaguardando ogni altro suo compagno, e Kaido resterà da solo sul proprio lato del terreno. Attenzione, rosinante non utilizzerà la sua parola chiave blocker per sventare la minaccia del Kaido, ma il suo effetto. Infatti, il primo verrà preso in considerazione unicamente in fase di battaglia, mentre il secondo per l'intero arco del turno rivale. Quarto ed ultimo caso vedrà sempre Lucci contro due Enel. La situazione di gioco sarà la seguente. I due dei del tuono hanno visto un abbassamento del proprio costo da 7 a 2 per il primo e da 7 a 1 per il secondo. L'avversario vestirà i panni di Enel leader e avrà a disposizione una sola vita. Decidete quindi di impiegare il piccionaio dalla mano innescando il suo effetto e bersagliando proprio i due rush presenti sul campo. Il timing in questo caso sarà il seguente. On play si attiva, sceglie gli obiettivi, si risolve non avendo l'avversario nulla da contrapporgli, i due Enel vengono distrutti ed è proprio in quel caso che le loro abilità verranno attivate una alla volta. Quindi per il primo basterà scartare una carta dalla cima delle vite da parte di chi vi giocherà contro per salvargli la vita, mentre il secondo inevitabilmente verrà posto nella pila degli scarti non avendo l'avversario altre vite a disposizione. Una volta che questa catena di effetti verrà risolta, solo allora l'avversario potrà fare appello all'effetto del proprio leader, piazzando una carta dalla cima del proprio mazzo nella pila delle vite. Di esempi comunque ce ne sono moltissimi, come lo zorro del primo starter che mantiene mille punti di attacco in più anche durante la mano avversaria. Non lo conoscevate? Piccolo bonus allora. Quando troverete su una carta la sola, e ripeto sola, dicitura Don per uno, quell'abilità avrà luogo fino a quando il Don non abbandonerà quel character tornando nella propria pilla dedicata. Attenzione anche qui, se assegnerete 10 Don a Zoro esso prenderà sì 10.000 punti in termini di forza per il vostro turno corrente più mille punti aggiuntivi derivanti dal proprio effetto, ma solo mille. Non sarà possibile cumulare. In ogni caso nel turno avversario comunque lo spadaccino tornerà ad essere un 6.000 perdendo la forza conferitagli da tutti i Don che gli avrete posto sotto nel vostro turno precedente. Questo caso comunque non rientra nel timing, ma è una menzione onorevole che può sempre tornare utile. E quindi, come dicevo, di esempi ce ne sono moltissimi e diversi ancora da scoprire ed approfondire. E chissà, magari questo contenuto potrà dare il via ad una serie che analizzerà, grazie anche al supporto di giudici di gara ufficiali come Graziano Zinanni, che ringrazio per la partecipazione, diverse dinamiche che vi sono tuttora sconosciute o semplicemente alle quali vorrete dare una risposta. E voi avete qualche meccanica che non vi risulta ancora chiara? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.